Il successo del centro-sinistra allargato in Sardegna potrebbe essere un segnale anche per il prossimo appuntamento elettorale nelle amministrative aretine. Il voto proporzionale facilita un approccio più propriamente politico e nell'aretino sono due i comuni che eleggeranno il sindaco e i rispettivi consigli comunali in maniera diversa rispetto agli altri condizionati dal maggioritario puro. Cortona da una parte e San Giovanni Valdano dall'altra possono sperimentare la nuova alleanza che in Sardegna ha avuto un successo politico innegabile grazie anche al carachiri del centro-destra. In verità c'è chi ha già anticipato i tempi perché a Cortona il Movimento 5 Stelle ha deciso di appoggiare la corsia di Andrea Vignini prima che questi fosse designato dal suo partito. Dunque Cortona ha già il suo campo largo e i dirigenti locali pentastellati hanno convintamente costruito questo progetto. Più complicata la situazione a San Giovanni Valdano dove i 5 Stelle sono sempre stati all'opposizione della giunta PD diretta da Valentina Vati. In Valdano dunque costruire il rapporto in poco tempo non sarà facile ma la politica si sa è anche l'arte del possibile.